Musica Venerdì 11 ottobre, ben ritrovati con la nostra informazione. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due persone, padre e figlio, per tentato omicidio. Avrebbero picchiato a sangue un loro conciunto per futili motivi. Sentiamo. Su disposizione della Procura di Catania, la Polizia ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelarie emesse dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di Gioacchino Spampinato di 58 anni e Giovanni Battista Spampinato di 36 anni, entrambi gravemente indiziati per tentato omicidio, aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dai futili motivi. Le indagini hanno permesso di acquisire elementi che dimostrerebbero come i due sarebbero stati domenica 2 giugno 2024 gli autori di un tentato omicidio, mediante percosse dirette a varie parti del corpo in danno di un loro congiunto. Le investigazioni hanno tratto origine da una chiamata giunta in questura in cui si segnalava un'aggressione nel quartiere San Giorgio ed il correlato soccorso da parte dei sanitari del 118 di un uomo aggredito da più persone e poi trasportato presso l'ospedale San Marco in codice rosso con ferite lacero contuse al volto agli arti inferiori e superiori, nonché con diverse tumefazioni, echimosi ed edemi in più parti del viso e del torace. Nonostante la non collaborazione della vittima che non ha fornito alcun riferimento utile, le indagini hanno permesso, mediante l'interrogatorio anche di altri familiari e di un accurato sopralluogo sul posto teatro dell'accaduto, di accertare che il pestaggio era avvenuto in un contesto di natura familiare. Il sequestro di una stampella in alluminio nella disponibilità della persona offesa ed impiegata per colpirla, nonché le immagini tratte dal suo telefono cellulare, con riferimento a due fotografie del 2 giugno, una raffigurando la stessa persona offesa con il volto sanguinante e tumefatto, e nell'altra foto una carabina, sua volta oggetto di sequestro e i successivi accertamenti di natura tecnica, hanno permesso di ricostruire come i due aggressori, che sono padre e figlio, dopo un pregresso di verbio con la vittima, la quale li aveva redarguiti per il rumore da loro provocato, esplodendo un colpo di carabina ad aria compressa all'indirizzo del 58enne in stato e detenzione domiciliare per altra causa, tingendolo in fronte, sarebbero stati gli autori per l'appunto dell'aggressione, per finalità ritorsive, mediante pugni, calci e colpi di stampella in danno della vittima, colpita all'altezza del capo, al volto e altre parti del corpo, e crollata a terra esamine. In considerazione degli elementi indiziari raccolti, il GIP, su richiesta del PM, ha così disposto il carcere nei confronti di padre e figlio. I due sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ancora un incendio stradale mortale sulle strade del Catanese. La notte scossa, lungo la circunvolazione di Catania, è morto Francesco Pulpirendi, 26 anni, di mister bianco e molto conosciuto a Paterno, per aver gestito il ristorante 7 e 8 di Biale dei Platani. Il giovane era alla guida di una moto, quando per causa da accertare si è scontrato con un'auto rovinando sull'asfalto. Inutili si sono rivelate, alla fine i sorcossi. Il 26enne è deceduto sul posto. Rissa ieri sera in Piazza Adamo a Catania. Due fratelli sono stati arrestati per aver aggredito due agenti della polizia locale. Vediamo le immagini. Scene di violenza inaudita ieri sera a Catania, proprio nel centro storico, nella piazzetta Adamo, non distante dal municipio e dalla costruzione di Catania. Una movita, quindi da quando movimentata, che ha provocato il fermo, poi finita ai domiciliari in attesa della convalida, di due fratelli di 33 e 37 anni, titolari di un bar nei pressi della piazza. I due uomini sono stati arrestati dagli agenti delle volanti e della polizia locale dopo che hanno aggredito due vigili urbani, colpendo al vuoto una di loro, una donna e altre persone presenti. La scena è stata ripresa da passanti e i video sono diventati virali sui social. Motivo scatenante alla violenza e alla multa che gli agenti della polizia locale stavano facendo ad un'auto in diveto di sosta che intracciava l'attività commerciale nella zona. Uno dei due arrestati ha rifiutato di spostare l'autovettore e anche di fornire i documenti. Poi, spalleggiato da fratello, ha minacciato di morto i due agenti colpendo al vuoto la vigilessa e facendo la cadere a terra procurando diverse conduzioni. Dopo aver aggredito i due agenti della polizia locale, i due si sono scagliati contro i dipendenti di un ristorante ritenendole colpevoli di aver chiamato i vigili urbani. Hanno afferrato uno sghebello e hanno lanciato colpendolo uno dei presenti, il presidente di Catania e di Mio Italia Catania, Roberto Turisco, che ha postato dei video sui social autorizzandone la diffusione. Per lui è stato necessario l'intervento dei medici del 118. I due arrestati hanno poi aggredito verbalmente e fisicamente i titolari del locale facendo scoppiare una lita in strada. L'immediato intervento della polizia di Stato ha permesso di riportare la situazione alla calma e di identificare i due uomini che sono stati arrestati e quindi sottoposti a disposizione della procura agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalia. Massima solidarietà ai due agenti di polizia municipale aggrediti è stata espressa dall'amministrazione comunale di Catania. Il sindaco Enrico Trentino e l'assessore Alessandro Porto si sono sincerati delle condizioni di salute dei due operatori che medicati hanno riportato ferite e giudicati guaribili in sette giorni. Un fatto molto grave hanno commandato Trentino e Porto che non rimarrà neanche questa volta imbunito. Si illude chi pensa che a Catania ci sia una zona in franche e attuare condotte violente restando imbunito evitando le prevedibili azioni della giustizia. Il fronte istituzionale della sicurezza cittadino è combattuto nel contrastare e reprimere ogni forma di soprafazione. Piena solidarietà ai due agenti della polizia locale è stata espressa anche dal presidente del Consiglio Comunale di Catania e Sebastiano Anastasi. Solidarietà ai vigili urbani credite anche da parte della CISL FP Catania. I lavoratori pubblici sono sempre più esposti alla violenza commenta Danilo Sottile, segretario generale della CISL FP Catania come anche in altri combatti. Le istituzioni lavorano per proteggere i propri rappresentanti. Agenti della polizia di Stato e della polizia locale questo pomeriggio a Biancavilla hanno controllato le strade e le piazze biancavillese al fine di contrastare violazioni a codice della strada messi in atto da automobilisti indisciplinari. Vediamo. Controllo straordinario congiunto questo pomeriggio a Biancavilla fra la polizia di Stato e la polizia locale. Attenzione puntata maggiormente al rispetto delle norme previste dal codice della strada e contrastare quindi quelle condotte poste in essere da automobilisti indisciplinati o non rispettosi delle regole, a scapito invece degli utenti della strada che le osservano scrupolosamente. Gli agenti hanno presidiato le strade e le piazze di maggiore afflusso veicolare della città via Vittorio Emanuele, piazza Cavour, piazza Colleggiata, piazza Roma e piazza Sgriccio. Numerosi veicoli fermati e sottoposti a controllo altrettante le persone identificate. Sul campo i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Adrano e quelli del reparto prevenzione ai crimini Sicilia-Orientale di Catania nell'ambito del collaudato modello Trinacria insieme come detto agli agenti della polizia locale. Il servizio di controllo del territorio è stato predisposto dalla questura di Catania diretta dal questore Giuseppe Bellassai. Con ogni probabilità nelle prossime ore proprio la questura di Catania diramerà i numeri dell'operazione del controllo straordinario del territorio che questo pomeriggio è stato effettuato a Biancavilla. Assolti perché il fatto non sussiste da Tribunale di Catania i vertici dell'Ama di Paternò in carica nel 2020 dall'accusa di inquinamento ambientale e violazione della normativa sui rifiuti. A comunicarlo è l'attuale governance dell'azienda municipalizzata Acquedotto di Paternò. Sentiamo. I vertici dell'Ama, l'azienda municipalizzata Acquedotto di Paternò ossia il presidente Orazio Terranova e il direttore generale Francesco Freni attraverso una nota stampa hanno comunicato che lo scorso 2 ottobre il giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania Daniela Monaco Crea ha assolto perché il fatto non sussiste Andrea Lofaro ex presidente Ama nel 2020 nonché l'attuale assessore comunale lo stesso Francesco Freni nonché l'azienda municipalizzata Acquedotto in quanto indagate per inquinamento ambientale e violazione della normativa sui rifiuti. La vicenda trae origine da una segnalazione del giugno del 2020 sulle condizioni di inquinamento di alcuni tratti del fiume Simeto che aveva determinato la Procura della Repubblica a procedere nei confronti della società e dei vertici aziendali in carica in quel periodo. La sentenza di assoluzione del gruppo con ampia formula liberatoria intervenuta a distanza di 4 anni dai fatti se leggere una nota stampa divulgata dall'attuale governance dell'AMA conferma la fondatezza delle allegazioni difensive con le quali si è dimostrato anche sul piano tecnico la correttezza dell'operato di tutti i soggetti coinvolti. Nel manifestare dunque piena soddisfazione per il favorevole esito del processo l'AMA tiene a precisare che la salvaguardia dell'ambiente in generale e la tutela della straordinaria biodiversità del fiume Simeto in particolare costituiscono degli obiettivi imprescindibili della missione aziendale prosegue la nota. In questa prospettiva si confida anche attraverso una maggiore informazione e formazione della cittadinanza sulle buone pratiche nell'utilizzo della rete fognaria di poter progressivamente concorrere a miglioramento delle condizioni ambientali del Simeto che rappresenta una straordinaria risorsa del territorio. Si chiude così la nota stampa a firma del Presidente dell'AMA Orazio Terranò e del Direttore Generale Francesco Freni. Segnalazione alla nostra redazione in merito all'inciviltà di alcuni cittadini di Biancavilla che senza alcun scrupolo hanno esposto in strada come fossero normali rifiuti carcassi di animali morti o mai in uno stato di putrefazione con tutti i rischi igienico-sanitari che ne possono derivare. In via Piccione qualcuno ha messo all'interno di una gabbietta per la frutta un gatto morto da giorno che è o mai in uno stato avanzato di putrefazione con la presenza di vermi. L'aria nelle vicinanze è irrespirabile. In via Gemma invece qualcuno ha messo all'interno di un sacchetto un cagnolino morto. Aria puzzolente anche qui. Quest'ultimo non è nato da mattinata. È stato rimosso. Dietro le quinte del giornalismo questa mattina gli studenti della scuola Antonio Bruno di Biancavilla hanno incontrato il giornalista Giuseppe Lavenia. Vediamo. Una lezione speciale carica di sentimenti, di umanità ma anche di informazione e di attualità è quella vissuta questa mattina dagli studenti dell'istituto comprensivo Antonio Bruno di Biancavilla che ha ospitato il giornalista adranita Giuseppe Lavenia inviato del Tg1. Dietro le quinte del giornalismo è stato questo il titolo dell'incontro voluto dalla dirigente scolastica Maria Patrizia Gumina. Giuseppe Lavenia come sempre ha saputo raccontare con le parole giuste e adatte ad un pubblico fatto da giovanissimi gli orrori della guerra vissuti da lui come inviato in Ucraina attirando l'assoluta attenzione da parte dei ragazzi. È bello vedere nei loro occhi l'attenzione, la partecipazione, uno stimolo nel tentare di raccontare con le parole che arrivino. Cioè modificare anche la narrazione come si dice oggi per tentare di arrivare a questa fascia di età che chiaramente usa i mezzi tradizionali come possono essere la tv o i giornali in maniera diversa. Cioè li subiscono, i genitori gli impongono di guardare il telegiornale allora lo subiscono. Magari confrontarsi con loro ci consente, parlo dalla parte giornalistica, di capire meglio. Io ogni volta che vado in una scuola ne esco con la convinzione, non è vero che non gli frega nulla, non è vero che i ragazzi sono disinteressati, è vero che hanno delle modalità di apprendimento diverse quindi noi dobbiamo sforzarci di capire come arrivarci e come interessarli. Io non sono un inviato di guerra, sono un semplice inviato che ha fatto anche quel tipo di esperienza. E la corazza che mi sono portato dietro non mi è bastata per fronteggiare il dolore che ho visto. E a un certo punto mi sono detto non lo devo nemmeno fronteggiare, devo tentare di raccontare anche questo, anche il dolore. Siccome ho visto che la guerra non è soltanto il missile che arriva sulla città e distrugge i palazzi, ho visto la sofferenza di tanta povera gente che è costretta a lasciare casa o a far curare il bambino malato di leucemia nei bunker, ecco io quello lì non lo voglio dimenticare. Ma il giornalista non ha parlato solo della guerra in Ucraina, ma anche di mafia. Una parola questa che per molti anni è stata quasi del tutto volontariamente sminuita, negandone addirittura l'esistenza anche da parte di certe istituzioni. Giuseppe Lavene ha raccontato la storia del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, figlio dell'ex mafioso Santino, sequestrato dalla mafia, è ucciso dopo tre anni di prigionia e sciolto nell'acido nel 1996 per fare un torto a suo padre, divenuto collaboratore di giustizia. Anche il fenomeno mafia, cinica e spietata, è una sorta di guerra. Sì, è una guerra e noi siciliani l'abbiamo vissuta, l'abbiamo fatta, subita per la verità. Ci hanno privato di una gioventù spensierata, l'abbiamo assistito agli omicidi, alle stragi. È l'ultimo latitante, arrestato e catturato e responsabile. È assolutamente responsabile anche della morte del piccolo Giuseppe Di Matteo. L'ho raccontato a questi ragazzini per dire c'era un bambino come voi, che aveva 12 anni come avete adesso e come avete voi adesso, aveva grandi sogni e la mafia l'ha ammazzato. Quella stessa mafia che faceva circolare l'idea, la mafia non fa del male, non tocca donne e bambini. Ha ucciso infatti il piccolo Giuseppe Di Matteo. Lavene ha raccontato ai ragazzi le sue paure, i suoi sentimenti, ma anche le gioie e le soddisfazioni provate nel fare il mestiere di inviato. Ha parlato di come si è approcciato al mondo del giornalismo, quali ostacoli ha dovuto affrontare e superare. Gli studenti hanno poi partecipato attivamente al racconto, ponendo delle domande al giornalista, che ha risposto come nel suo stile, in modo chiaro e diretto, entrando in perfetta empatia con i ragazzi. Insomma, un bel momento quello di oggi, vissuto dagli studenti della Bruno. L'incontro si inserisce all'interno del progetto dell'Istituto, il progetto giornalino, che portiamo avanti da diversi anni. Abbiamo voluto dare questa opportunità ai ragazzi di conoscere dal vivo un giornalista e così interloquire con lui su alcune tematiche importanti. I ragazzi sono molto entusiasti di questo incontro, molto attegni e molto partecipi. Adrano avrà un nuovo asilo nido. L'Aggiunta Comunale ha approvato la costruzione di una nuova struttura grazie ai fondi del PNRR. Se andiamo. L'Aggiunta Comunale di Adrano questa mattina ha deliberato una variazione di bilancio pari ad 1.728.000 euro destinata alla costruzione di un nuovo asilo nido nell'area antistante allo stadio dell'Etna, un progetto finanziato grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ovvero il PNRR. Questo intervento rappresenta un passo avanti significativo nell'ampliamento dei servizi all'infanzia e a sostegno delle famiglie del nostro territorio, si legge in una nota stampa del Comune. Il crono programma del progetto prevede l'aggiudicazione dei lavori di realizzazione alla ditta appaltatrice entro il 31 ottobre, con l'obiettivo di concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di offrire uno spazio formativo per la crescita dei più piccoli e di contribuire allo stesso tempo a sostenere le famiglie adrenite, facilitandone la conciliazione fra vita lavorativa e familiare. La costruzione di questo nuovo asilo nido è un traguardo importante per la nostra comunità, ha detto il sindaco Fabio Mancuso. Attraverso i fondi PNRR stiamo investendo nel futuro dei nostri bambini e nell'aiuto alle famiglie. Il nuovo asilo nido è parte integrante di un ampio potenziamento dei servizi all'istruzione. vogliamo garantire a tutte le famiglie del nostro comune la possibilità di accedere a servizi di qualità fondamentali per la crescita dei più piccoli. La città di Biancavilla si appresta a vivere giornate di sport e di divertimento fra ciclismo, basket, tennis e slalom automobilistico. Il via domani. Sentiamo. La salita Pantani, il tracciato che parte dalla strada statale 284 sino ad arrivare sull'Etna al rifugio Sapienza, sarà la protagonista assoluta domenica 13 della prima cronoscalata salita Pantani di ciclismo, organizzata dalla SD Libertas Area di Mister Bianco, in collaborazione con la SD Sport Bike Biancavilla. La gara è valida come tappa unica del campionato regionale della Federazione Ciclistica Italiana. Si sono iscritti a partecipare atleti delle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa. La salita Pantani è lunga a 20 chilometri e 600 metri ed è, sul vulcano attivo più grande d'Europa, la più lunga tra le sei dedicate ai campioni del ciclismo. L'ha voluta il Parco Ciclistico dell'Etna, su proposta dell'ex consigliere comunale Antonio Bonanno. È stata inaugurata nel luglio del 2021 e appena un anno dopo ha avuto il battesimo di fuoco della carovana del Giro d'Italia. Che emozione vedere sui canali televisivi nazionali ed europei a seguito del Giro Il Gigantesco Murales, realizzato dall'artista bianchevillese Plagido Lavenia e la scritta Quando la strada sale Marco vive, dedicata al pirata Marco Pantani, dice il sindaco Antonio Bonanno. Con la salita Pantani osserva invece l'assessore allo sport Vincenzo Giardina la Porta del Sole, come è stato battezzato l'accesso al vulcano dal nostro versante, è un vero e proprio fiore all'occhiello sul piano sportivo e paesaggistico. Appuntamento quindi a domenica 13, il raduno è previsto alle ore 8 e alle 10 la partenza delle 8 categorie previste. L'evento rientra tra gli altri appuntamenti sportivi previsti in questi giorni a Biancavilla. Domani nel campetto di basket Tanino Lapiana si terrà una giornata di basket che sancisce. Di fatto la ripartenza della pallacanestro a Biancavilla. Sarà presente infatti la squadra della pallacanestro a Biancavilla. Domenica, oltre alla cronoscalata salita Pantani, ci sarà anche la conclusione del 27esimo torneo San Plagido di tennis nella struttura sportiva Orazio Reiti. E ancora, presso i campetti La Bombonera, si terrà il terzo San Plagido Paddle Cup. Domenica 20 sarà la volta dell'undicesimo slalom automobilistico città di Biancavilla con la partenza alle ore 9 da Contrada Croce al Vallone. Insomma, Biancavilla è già pronta per vivere giornate di sport e divertimento. Buon compleanno al poliedrico Pippo Ventura per i suoi 91 anni. È stato il pioniere delle trasmissioni di Videostar tra la fine degli anni 80 e il 90. Vediamo. Buon compleanno a Pippo Ventura, volto storico di Videostar. Oggi ha compiuto 91 anni, poeta, scrittore, attore teatrale, cinematografico e conduttore televisivo. Ha recitato fra gli altri nel film Lo Voglio Maschio di Ugo Seitta con Tuccio Musumeci e Caro Michele di Mario Monicelli accanto all'attrice Mariangela Melato e nello sceneggiato Rai Il delitto notarbartolo. personaggio molto conosciuto a Biancavilla per il suo impegno nella realizzazione di svariati eventi a partire dagli anni 60 con la Proloco. Diverse le sue pubblicazioni che approfondiscono le tradizioni locali, il dialetto, racconti di vita vissuta ma anche di poesie è stato fra i primi collaboratori di Videostar sin dall'avvio dell'attività televisiva avvenuta a Biancavilla nel 1986. Fra gli anni 80 e 90 Pippo Ventura per Videostar ha curato tantissime trasmissioni come ad esempio la prima e la seconda rassegna nuovi poeti sciuri di Mungiberdu, Cento, diciamo pure Orrero Tundo e tante altre. Ha curato anche tantissimi speciali inerenti le iniziative culturali e religiose della città. Ha commentato per primo per la nostra emittente le varie processioni religiose dei Santi Patroni e della Santa Pasqua, telecrone che indimenticabili e consegnate alla storia della città di Biancavilla. Vi concederemo le immagini di questa marea di gente che si sposta lentamente quasi in processione ma una processione gioiosa e particolarmente elegante. Avevamo accennato un po' prima alla necessità che sentono i paesani di partecipare alla festa con il vestito della festa. Ecco qua allora la dimostrazione della verità delle nostre parole. Dimostrazione di bravura da parte dei portatori, leggera inclinazione l'una a destra e l'altra verso sinistra ed ecco perfetto il bacio tra madre e figlio in piazza annunziata. Mentre madre e figlio si abbracciano l'angelo balla. Per il suo impegno profuso nel corso degli anni, nell'ottobre del 2023 ha ricevuto il premio Scanderbeg da parte del comune di Biancavilla su proposta proprio di Videostar e a riterare il premio fu la figlia Daniela. Tantissimi auguri di buon compleanno dunque a Pippo Ventura da parte della direzione di Videostar e di tutti i collaboratori tecnici e anche dalla redazione giornalistica di Star News. Al via oggi secondo weekend della sagra del pistacchio a Bronde questa mattina da follare gli stand sono stati i ragazzi delle scuole cittadine. Vediamo. Tantissimi fra scolari e studenti questa mattina hanno affollato a Bronde gli stand della 33esima sagra del pistacchio riembendo così tutto il percorso di gioia ed entusiasmo. Questo grazie alla manifestazione La scuola alla sagra del pistacchio voluta dal sindaco Pino Firarello ed organizzata dall'assessore alle politiche scolastiche Maria De Luca. Una festa a cui ha partecipato il direttore dell'ambito territoriale di Catania dell'ufficio scolastico regionale Emilio Grasso ad accoglierlo sul palco per il saluto ai ragazzi il sindaco, la giunta municipale, diversi consiglieri comunali e i dirigenti degli istituti scolastici di Bronde che hanno partecipato attivamente alla festa. Mangiate tanto gelato ha esclamato il sindaco rivolgendosi ai ragazzi soprattutto mangiate pistacchio di Bronde perché fa bene alla salute ha detto. Benvenuti a tutti ha invece aggiunto l'assessore De Luca grazie ai ragazzi e ai genitori, ai docenti e ai dirigenti scolastici che oggi sono qui. Questa è una giornata intensa per tutti gli studenti che di mattina mirano gli stand e assaggiano il pistacchio e poi vanno a visitare il museo multimediale nel castello Nelson. Un saluto a tutte le scuole che sono qui ha affermato il direttore dell'ufficio scolastico regionale Emilio Grasso. Manifestazioni come queste ha aggiunto. Non sono solo momenti di divertimento ma anche di cultura perché si conosce il territorio. Al termine gelato al pistacchio per tutti. La sagra del pistacchio ha riacceso i motori nel migliore dei modi. Ha concluso l'assessore agli eventi Angelica Prestiani, organizzatrice della sagra. Oggi tante iniziative e tanti spettacoli ma domani alle ore 18 il primo trofeo pugilistico e poi la sera la cover di Marco Mengoni in piazza Cimbali. Al momento non ci sono altre notizie. Si chiude qui questa edizione. A me non è stato che salutare e dà un appuntamento alle prossime. Una buona serata con il programma di Videostar. Grazie a tutti.